Grazie i giochi preziosi! Sara accendi l'albero, vai accendere anche le altre cose, guarda qua una cosa, c'è una sorpresa per te da parte degli amici di giochi preziosi, guarda chi c'è? Chi è questo? E' lui? Sei contenta? Sei contentissima? Da 1 a 10? E' grande e dici grazie, guarda chi c'è più, la conosci questa qua? Pecarella, aspetta, te lo apro io, vedi guarda che c'è? Ma tu non hai visto ancora tutto quello che c'è? Eh, questa è la punturina e lo stetoscopio. Pure lo stetoscopio, hai visto? Guarda. Boh, ora è la medicina arancione. Medicina arancione, vai. Vedi il cuoricino come sta? Bravo. No, devi fare la visita con lo stetoscopio. Ancora? No, questa no. Ma questo mi piace. Vabbè. Questo mi dici no, perché è la fregola. Benissimo, proviamo a vedere il cuore, come sta vedendo. Papà sta venendo? Sì. La piccola è lì. Hoviveno... Grazie a tutti.